Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, io sono Maullo941 e siamo tornati con una nuova avventura Signori, allora, piccolo appunto prima di partire col video, stavo tornando a casa per registrare il nuovo video E guardate in cosa mi sono imbattuto, in un pappagallo, signori, lo voglio, io voglio quel pappagallo, per forza, a tutti i costi Io ho ancora l'inventario pieno di tutte le cose che ci siamo portati, che abbiamo recuperato nello scorso video Però voglio quel pappagallo, signori, voglio quel cazzarò di pappagallo Video improvvisato, signori, mi servono dei semini, datemi dei cazzarò di semini Mannaggia a me che non mi porto i semini, quanto possono essere utili i semini quando non ti servono Mi dai dei semini, mannaggia a te, porca paletta ambriaca, dammi dei semini, dammi dei semini, mannaggia Ogni volta, quando rompi questa erba che non ti serve, ti dà tutti i semini del mondo E ancora là il pappagallo? Sì, il pappagallo è ancora là Porca miseria, quando... Oh, ok, uno ce l'abbiamo, ma con uno sicuramente non ci facciamo nulla Ce ne servono magari più di uno Mi dai qualche semini in più Video improvvisato, signori I video quelli improvvisati belli Cioè dovevo essere... dovevo tornare a casa e registrare un altro tipo di video Oh, quindi ne abbiamo due Ok, ne dai qualcun altro, dai Dai, mannaggia da miseria, dammene qualcun altro In tutto questo ci stiamo un attimino allontanando Non voglio che il pappagallo mi sparisce Speriamo di no Speriamo di no Ok, tre semini, signori Ci proviamo con tre semini? È veramente da poveraccio Quello lì era un alberello, non c'entra un cazzo Va bene, va bene Signori, comunque ricordo a tutti di iscrivervi al canale Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a serie e al canale Vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno E io ce la sto mettendo tutta L'impegno è anche da parte vostra Che dovete semplicemente con un tastino Cliccare sul seguimi e lasciare anche un bel mi piace Allora, ho parlato in maniera tutta quanta impappinata Perché non voglio far spaventare il pappagallo Pappagallino, bello Guarda, ho i semini Ok, mi sta guardando Quindi i semini gli piacciono I semini ti piacciono Pappagallino mio Bello, ma quanto sei bello? Ok, uno Ok, due Ma quanto sei stronzo, pappagallino mio Ma quanto sei stronzo Andiamo a cercare altri semi Andiamo a cercare altri tre semi Non gli sono bastati, signori E un pappagallino ingordo Quanti semini abbiamo a casa, mannaggia a me Dici, ma potevi tornare a casa e recuperare i semi Sì, scriverti le coordinate e tornare a casa Sì, va bene Va a trovarlo di nuovo sto pappagallo Dai, dammi dei semini Mannaggia a te A chi non te lo dice pure Mannaggia Basta che mannaggia se stai guardando questo video E il bello è che Stavo tornando a casa E ho visto che qua c'è un maialozzo Ho detto, ma quasi quasi potrei prendere il maialozzo E portarlo a casa E fare il discorso dei maiali E invece no Mi ho trovato il pappagallo Solamente che il pappagallo È talmente tanto stronzo Che non gli sono bastati tre semini Mannaggia a te A chi non te lo dice pure Allora, uno l'abbiamo recuperato Un semino l'abbiamo recuperato Due semini l'abbiamo recuperato Tre semini l'abbiamo recuperato Pappagallo Ti sto dando un totale di altri quattro semini Ok Signore, se non lo convinciamo così Dico È un pochino, un po' troppo presenzioso Questo pappagallo E mi potrebbe iniziare a stare sul culo Eh, dai, dammene qualcun altro Io lo so che mo' torno da lui Ok Siamo a cinque Guarda qua quanti sono Cinque, sei Oh signore, se non lo convinciamo con sei semini È un pappagallo di merda Allora, dai, 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 dai Torniamo Torniamo, torniamo dal pappagallino Allora, dai Speriamo che non sia volato Perché già mi è costato tre semini No, è là, è là, è là Lo vedo, lo vedo, lo vedo Vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo Dai pappagallino Ciao bellino Guarda, sono di nuovo io Ciao, sono tornato con altri semini Sì Abbiamo preso il pappagallino Così da Per puro caso Per puro caso Allora Pappagallino mio Parliamoci chiaro Tu mi devi seguire Fino a casa E mo' già Mo' già sei sceso Va bene L'importante Ahia L'importante è che sei all'impiedi Pappagallino L'importante è che sei all'impiedi Perché mi devi seguire Allora Dove è la mia terra Dove cazzo là qua Ok Allora Lui si mi deve seguire E si deve autotrasportare Dove stai Perfetto Semino Così sei seduto Così sei all'impiedi Quindi in teoria Se io mi allontano Tu mi segui Giusto? Bravo Pappagallino Allora Il ritorno a casa Sarà molto più lungo Del previsto Ma non è importante Abbiamo un pappagallo in più Nella nostra Carissima casa volante Tra l'altro Forse io non ho mai neanche preso I semi di cacao Può essere? No Li avevo presi Dai Dai pappagallino Seguimi Seguimi Che ce ne torniamo a casa Dai Dai Forza Forza Veloce Rapido Indolore Tutto questo ritorno a casa Io l'avrei dovuto Dove cazzo Rola è? Sì Io ti sei Ah sei sulla mia spalla Ma vaffanculo Io già Già lo avevo perso Signori Allora con calma Bravisto Tu stai lì E noi siamo tutti contenti Io devo solamente Capire le coordinate di casa Per tornare a casa Che tra l'altro Erano vicinissime a casa Allora di qua Aumentano queste Di qua No Cazzo Lo dico Di qua Dove andare Sì Forza 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 Andiamo 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 Sapete che Allora Dormiamo Dormiamo Così anche il nostro pappagallo Si fa una dormita Ci servono altri alveari Per le api No Siamo abbastanza pieni Dove sta il pappagallo Me li da E io me li prendo Senza ombra di dubbio Senza problemi Senza problemi Il gioco me li da E io me le prendo Non me l'ha data Ah no Ecco Ok Sette 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 Mi stanno bene Sette Andiamo Un altro No signori Cioè Che non me ne dava nemmeno una Che me ne sta Ma che sento Enderman ovunque C'è un po' che è esagerato Così Così è un po' che è esagerato Dico Merito verità Prima tutti questi Enderman Mannaggia a te A chi non te lo dice pure Mangiamo Stiamo lentamente Cercando la strada di casa Il pappagallino Sulla mia spalla Perfetto Grande pappagallino Dovevo dargli un nome A questo pappagallo Lo dici ma che hai fatto Nel video di oggi Siamo semplicemente Tornati a casa Ma Siamo tornati a casa Anche con un pappagallo In più signori Con un cazzarola Di pappagallo in più Che ogni tanto Scende Si fa i fatti suoi Però va bene A noi ci interessa Semplicemente E là c'è casa nostra Dai E così Siamo anche riusciti A tornare a casa Segnati sani e salvi Quindi non solo Lenderper Ma anche il pappagallino Dai così Dai così Allora Dove sta il pappagallino Ci va sull'acqua Il pappagallino Si certo che ci va sull'acqua Dai Dai Vieni Vieni zio Svolazza fino a qua Svolazza fino a qua Ok Bravo Dai dai Saliamo 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 Dove lo andiamo a mettere il pappagallino Non ho la più palle di idea Dove lo andiamo a più palle di idea Da qualche parte Intanto lo andiamo a posizionare Da qualche parte In modo tale che si sta bello Fermo e tranquillo Poi potremmo fargli anche una gabbietta Così è libero di svolazzare Sarebbe libero di svolazzare Dove è Dove è il pappagallo Cip cip Dove cazzarola stai Ah qua Mannaggia A te Chi non te lo dice pure Sali Brutto scemo Andiamo Dai 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 Ok Dove sei Sempre sulla mia spalla Come lo faccio scendere No Come Come cazzo Lo ti faccio scendere Ok Perfetto Sono riuscito a farti scendere No 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 Devi levarti dalla mia spalla Perfetto Pappagallino Non svolazzare troppo Ragazza Scendi Scendi Bravo Fermo La porca Dai Sì 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 Avvicina No devi scendere Devi scendere Bravo Bravo Fermo lì Oh Perfetto Signori ce l'abbiamo Abbiamo il pappagallino Non abbiamo una rana Che è un obiettivo Dei primissimi episodi Ma abbiamo il pappagallino Signori Ovviamente la copertina È quella di prima Quando ce l'abbiamo sulla spalla Che è ancora più carina Però per chiudere il video Questa mi sembra abbastanza buona Signori Detto questo Faccio la intro a fine video Ma che va bene lo stesso Signori detto questo Vi ringrazio per la vostra video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suoi supporto Vi ricordo di iscrivervi al canale Perché abbiamo l'obiettivo Di raggiungere i 2000 iscritti Entro la fine dell'anno Mi raccomando Basta un click sul pulsantino Per seguirmi E anche un bel pulsantino Sul mi piace Che fa sempre piacere Detto questo signori Noi ci vediamo domani Per un nuovo appuntamento E un nuovo video Bella raga Ciao